Per il Movimento 5 Stelle l'aeroporto d'Abruzzo stenta a decollare nonostante gli interventi dell'esecutivo regionale. Nel corso di una conferenza stampa i consiglieri regionali Domenico Pettinari, Sara Marcozzi e Riccardo Mercante hanno analizzato i dati dello scalo e presentato le loro proposte per il suo rilancio. Da un'analisi dettagliata di Asso Aeroporti che abbiamo analizzato viene fuori che mettendo a confronto l'annualità 2016 col 2015 c'è una perdita di passeggeri di circa 100.000 passeggeri transitati nell'aeroporto d'Abruzzo. Non solo, si perdono anche oltre 1.500 movimenti di mobili transitati nell'aeroporto d'Abruzzo e anche comparando il primo trimestre del 2017 sul 2016 vediamo una decrescita, quindi un decremento degli passeggeri transitati nell'aeroporto d'Abruzzo, movimenti e anche cargo. Questo anche, c'è un altro dato allarmante che i ricavi dalla vendita del 2016 sul 2015 abbiamo degli bilanci intermedi che ci dicono che sono stati venduti molto prestazione, vendita in meno e quindi perdita di danaro anche su questo. Tutto ciò a fronte di cosa? A fronte di un'iniezione di danaro pubblico nelle annualità 2015-2016 pari a 14 milioni di euro che la regione ha erogato mediante contributi straordinari. E allora noi abbiamo fatto delle proposte, proposte concrete. Uno, incentivare e valorizzare l'intermodalità. Non è possibile che ci siano cattedrali nel deserto che sono gli interporti non collegati all'aeroporto d'Abruzzo mediante ferro, non c'è una previsione. Non è stato previsto nei piani triennali del turismo la promozione del turismo, l'incentivazione e quindi l'aeroporto d'Abruzzo come strumento essenziale per portare turisti in Abruzzo. Noi abbiamo l'idea rechiare, queste sono le nostre proposte ci auguriamo che vengano definitivamente prese in considerazione.